io credo che abbiano fatto come dice una scelta coraggiosa inizio discorsi dei rossi l'ho conosciuto dei rossi devo dire che ero avevo una felicità dentro io perché riconoscevo in lui questo momento che secondo me lui quando l'ha chiamato la roma per questa cosa è vero che lui rischia ma è una scelta talmente d'amore verso quello che è la vita è la sua vita la roma che in quel momento ho stato lì neanche a chiedere secondo me quanto gli davano il contratto ha detto ditemi quando devo venire ci sono perché le rossi è così cioè quando sento dire sì ma ha fatto male alla spalla possiamo dirlo al limite noi ma un romanista non può dire una roba del genere i de rossi cioè non può dire della spalla dei rossi cioè non può il romanista parlare così di dei rossi e io credo che il sostegno comunque ci sarà ora l'idea che qualche maniera insomma debba riprendere una situazione che è difficoltosa che assolutamente però ha mostrato anche rispetto nel lavoro dei frittini e lui cercherà di tirar fuori qualcosa da questa squadra io onestamente qualche partita della spalla all'inizio l'avevo vista non era così male onestamente come proposta non voglio né illudere né però ci ha messo del suo dei rossi ha fatto come hai detto tu davide una scelta totalmente sbagliata per andare a ferrare quella è stata una scelta totalmente sbagliata e anche colpa sua che la scelta l'ha fatta lui no roma per lui è qualcosa che è la prima cosa che mi viene in mente di pensare è la sua la sua gioia uno che ha quel tipo di passione diceva primale è una è una persona che tutti dicono mi piacerebbe giocare in argentina poi non va nessuno piacerebbe vedere come l'ambiente sud america poi non va nessuno lui ha preso è andato io l'ho sentito due giorni dopo che era buenos aires mi ha detto già vado in giro da solo ho preso la macchina ho preso il navigatore con una passione che è proprio la passione che abbiamo noi quando parliamo di calcio per questo mi viene male quando si critica in questo modo le rosse come dire si è una furbata dei film ma si sarà anche una furbata ma io voglio leggerci un'altra cosa proprio questa passione che ha che ha dei rossi per il calcio io mi ci ritrovo poi farà bene farà male non so mi interessa addirittura poco onestamente cioè gli auguro il meglio però è proprio la sua passione che è il calcio che a me mi contagia e quando lui parla di calcio sono così certo poi dopo analizzeremo come abbiamo sempre fatto qualunque cosa quindi sia che andrà bene che andrà male comunque le sue prestazioni qui al fine del calcio le analizzeremo però in questo momento io sono felice per lui perché so che è felicissimo voglio sentire cosa hanno cosa hanno da dire carlo e io hanno sulla cioè sulla scelta in sé cioè la scelta comunque rimane un attimo paracula cioè in un momento in cui no cioè dico il momento in cui cioè tu non hai davide scusa mi fermo cioè ti fermo ma scusa tu le vai manda via murigno c'hai questo tipo di ambiente ok un big non viene adesso possiamo inventarsi che ti viene conte si sa forse hanno provato ma non viene sì ma conte significa petracchi significa tutto il suo stato non può più venire a roma chi prende cioè un big non lo prende cioè o prende un allenatore di medio livello a questo punto perché l'onde rossi ti dico carlo mi sembra paracula nella misura in cui arriva e non c'è nemmeno una figura dirigenziale con cui interfacciarsi se poi lui arriva infatti c'è l'introduzione che stavo facendo è paracula ma è un'occasione incredibile per strutturare il club cioè per esempio se i friedkin hanno molto in mente questa la cultura sportiva americana cioè strutturarlo dico una bestemmia ovviamente perché è imparagonabile come hanno fatto i boston celtics degli ultimi anni cioè in cui la figura la figura dell'allenatore una figura che tu fai crescere in casa che prepari che ha tutto il supporto della franchigia cioè in questo caso mi aspetto parlavamo ieri mi aspetto anche che a un certo punto qualcuno di friedkin mi piacerebbe vedere che che dan friedkin o chi per lui quando verrà scelto un dirigente o eventualmente verranno confermati i poteri o raddoppiati non so i poteri alla CEO della della roma cioè che qualcuno faccia un endorsement forte per dei rossi come a dire anche che non lo so magari a fine stagione arriva un primo allenatore di altissimo livello un maestro di calcio un allenatore che ha grandissima esperienza a cui derossi farà il vice perché l'idea è che derossi deve diventare l'allenatore della roma alla maniera del borussia dortmund con terzic o di altri club perché comunque tu ci stai esponendo una leggenda vivente del tuo club forse la più grande una delle più grandi in assoluto per il rapporto con i tifosi una delle più autentiche senza dubbio la stai esponendo comunque a una grossa figuraccia di merda anche gli da una grande opportunità però cioè tu ti preoccupi sempre del negativo ma guarda quello che hai dato a derossi cioè io quando in un idealmente c'è un messaggio che io posso dire a derossi io posso dire guarda al danni sono preoccupato per te e lui mi direbbe sicuramente io sono preoccupato per la roma per questo sono qui non si preoccupa per sé derossi tanto vinci perdi al limite ti mandano via però lui che vuole bene alla roma si preoccupa per la roma noi che vogliamo bene a lui ci preoccupiamo per lui no no è vero è vero io infatti spero che speriamo però ma sulla scelta c'è di derossi c'è un altro aspetto è che esonerare morigno è un rischio verso i tifosi chiamare derossi calma tutti e se tu chiami non lo so ho visto i ghiacchini mi ha fatto ridere ovviamente ma il ghiacchini della situazione dopo cinque minuti nella prima partita i corri per morigno e quindi con derossi non succederà ovviamente morigno avrà la sua la sua banner il suo messaggio della curva sud ok ma non andrà più lontano e non non vedremo una ribellione totale perché prima di volere bene a morigno vogliono bene a derossi e quindi per me vedo un po la scelta un po un po così anche perché sanno che è una decisione impopolare e l'hanno l'hanno visto con tutti questi insulti messaggi sui social non so c'è un elemento anche che mi ha fatto riflettere un po non so se avete visto la video che ha fatto la roma su sul primo giorno di derossi a trigoria una cosa che non abbiamo mai visto abbiamo visto dan frittin e rai ad frittin interno a trigoria dentro a trigoria e questa cosa non l'abbiamo mai visto quindi il messaggio è anche la proprietà è lì e con daniele derossi parla con lui ha appoggiato le sue idee e quindi andiamo così io lo vedo un po così aggiungo i on che tra hanno fatto vedere anche un pezzo di allenamento in quel modo in cui le dimensionano pure il terzo uomo cioè no anche quello io l'ho trovato molto sudola come cosa cioè chi vuoi capire capisca non so da parte della non mi sembra una scelta perché la roma sa comunicare mi sembra una scelta buttata lì fa vedere quel tipo allenamento quel momento dell'allenamento e penso che non sia neanche corretto definire una scelta interamente paracula perché paraculo non è auto esclusivo con intelligente o necessario io lo definirei realmente necessaria ho chiesto alle carte e dicono che questo è daniele derossi in relazione alla roma forza nove di bastoni non è forza fisica è la forza del portare l'essenza e l'essere nella realtà quel fuoco quella drive e del nove vuol dire che è arrivato al limite più alto e si rende conto che l'essere cristallizzato e duro e per penetrarlo per portare le cambiamenti deve avere forza devi continuare ad avere questa identità questo fuoco e continuare a portarlo senza curarti di nulla se non di quello mi sembra che sia il derossi che conosciamo e e se uno decide di un presidente decide di portare questo per rivitalizzare la sua squadra è una scelta forte necessaria non è una scelta paracula come dice io alla fine quella era la scelta non ce n'era una alternativa ovvio che tutti rischiano tutti rischiano aggiungo una cosa su derossi e io ho conosciuto diciamo per un programma che abbiamo fatto su una rete tv diversi anni fa 2017 l'avevo incontrato quindi prima un paio di volte stata a casa sua e poi dopo abbiamo fatto un girato secondo me stupendo tra l'altro con una disponibilità da parte sua clamorosa tanto che più di una persona ha detto ma quanti soldi vi ha dato per fare sta roba derossi zero ha raccontato il suo amore per la roma e la sua passione per il calcio e a derossi non devi nemmeno chiedere che cos'è la roma perché non riescerebbe a parlare ma tu lo vedi negli occhi lo vedi negli occhi cos'è quindi l'idea di murigno grande grande romanista che vedevo oggi io non discuto la situazione che c'è l'amore per i tifosi però in derossi questa cosa non c'è nel tipo di scelta cioè derossi se per lui andare contro un tifoso della roma come è capitato un tifoso che criticava la roma vuol dire alzare la voce lui lo difende cioè perché la roma sta soprattutto in questo momento e per troppi mesi la roma non è stata soprattutto c'è stata una persona sopra la roma e questo secondo me i fridin hanno cercato anche di ritornare a un minimo di equilibrio poi ovvio sul breve poi sono sempre risultati condizionano in me però non lo so ma essere una bella scelta in un mondo in cui tante volte si parla di valore eccetera sicuramente avranno pure ci sarà anche una componente di quello che dicevate prima però ci vedo anche dei valori che sono quelli incarnati da derossi per questo io faccio il tifo poi dovrà fare il lavoro il lavoro sporco c'era lui ecco